Il campionato si decide anche se gli arbitri sbagliano a favore delle squadre che giocano per vincere Scudetto. Oggi sembrava che era impossibile per noi vincere questa partita. Io non voglio parlare troppo, però il signor Di Paolo, per non dire anche il signor Di Bello, in qualche momento della partita ho sentito un po' di vergogna di essere lì. Ma si riferisce a qualche episodio in particolare? Vuoi che ti dica quanti? Due? O tre? O più? Ok, ti dico tre.